Nella giornata mondiale dell'epatite istituita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, la Croce Rossa di Roma e la Fondazione Villa Maraini, in collaborazione con il reparto di malattie infettive di Tor Vergata, che permetterà anche in futuro di approfondire esami su soggetti a rischio, hanno promosso per tutta la giornata test rapidi e gratuiti per l'epatite C e HIV, sotto lo slogan incontrare, testare e curare. E al mattino proprio a Villa Maraini si è tenuto anche un incontro con soggetti seropositivi proprio sull'epatiti, in cattedra il professor Andreoni, primario di Tor Vergata, che ha risposto alle tante domande dei pazienti. Epatite e HIV, patologie con modalità di trasmissione molto simili e spesso concomitanti in molti soggetti. La prima, si calcola in Italia, uccide ogni anno 10.000 persone, ma oggi si può guarire con una cura rivoluzionaria e non invasiva. L'importante è fare i test e farne in tempo. La connessione principale è che sono due malattie che si trasmettono attraverso le stesse vie, quindi l'uso, lo scambio della siringa, è un sistema eccezionalmente valido per trasmettere queste due malattie. Quindi spesso abbiamo malati che hanno sia l'infezione da virus HIV, quindi l'AIDS, che il virus dell'epatite C. In Italia si calcola che il 30% delle persone con infezione da HIV abbia anche l'epatite C, quindi uno su tre. Come si guarisce? Si guarisce con una singola compressa o con due o tre compresse secondo della cura che si fa. Normalmente bastano tre mesi di terapia, in qualche caso sei mesi, ma si guarisce nel 95% dei casi. Un fatto eccezionale, insomma, in medicina avere un trattamento che guarisce nel 95% dei casi non è facilmente ripetibile, con farmaci che sono perfettamente tollerati. Noi intendiamo sensibilizzare i tossicomani perché raggiungano i loro amici, i cosiddetti hard to reach, quelli difficili da raggiungere, per spiegargli che bisogna fare il test per vedere chi essere positivo e chi no, e che poi bisogna curarsi, perché noi per la prima volta nella storia dell'umanità possiamo arrivare ad eradicare questa malattia. Ad accendere i riflettori sul problema dei farmaci innovativi contro l'epatite C è anche una mozione presentata al Senato, che chiede al Governo di attivare una sperimentazione in questo senso sotto il controllo di Istituto Superiore di Sanità e AIFA. È stata presentata anche una petizione per chiedere l'uso dei generici per l'epatite C, dichiarando la malattia un'emergenza di salute pubblica. Ora, dicono i promotori, ci aspettiamo un segnale dal Ministro Lorenzin. Grazie a tutti.